Ben tornati a Starting Six, il nostro osservatorio sulla pallabolo che al maschile vivrà una sesta giornata della Superliga creata in banca nella quale non mancheranno altri scontri diretti capaci di delineare meglio gli equilibri di questo inizio di stagione. Il cuore è sempre stato l'organo pensante primario di Christos Slatanov che pure ha sempre avuto una gran testa, da giocatore anche in nazionale ha raccolto probabilmente molto meno di quello che avrebbe meritato e potuto ottenere proprio perché ha evitato di fare i globetrotter in giro per l'Italia o per il mondo, privilegiando la famiglia e tutto il resto. A Pacenza ha concluso la sua carriera che lo ha visto protagonista per un ventennio della nostra Serie A1, ora Superlega, seguendo le orme di papà Dimitar, il dimenticato campione allenatore bulgaro. Ha cresciuto a Milano, ha giocato a Ravenna, ha giocato a Roma, a Palermo, è tornato a Milano e appunto ha chiuso a Piacenza. E a Piacenza ora da direttore generale in sette anni ha costruito una società gioiello che prova a contendere la supremazia a due giganti come Perugia e Trento. Lo abbiamo intervistato per Starting Six, ascoltiamolo insieme. Buongiorno Cristo. Buongiorno a voi. E grazie per averci dato la tua disponibilità a partecipare al nostro format. Cominciamo subito con le cose importanti. Ti aspettavi questo primato della tua società, della tua squadra, quella con la quale hai chiuso la carriera, hai giocato molti anni con Piacenza e poi sei rimasto a svolgere sempre i ruoli sempre più importanti. Adesso l'hai costruita veramente con la tua anima, il tuo cuore questa squadra, sta lì su toccando ferro, no? Tutti gli scongiuti del caso ci stanno, quindi voglio dire mi prenderà un bel inizio di stagione. Sì, è stato un bel inizio di stagione, sicuramente non bisogna stare soli all'orio o pantarsene troppo perché è anche frutto di un calendario un po' più favorevole, quindi i conti si fanno come sempre alla fine, perché è quello che conta, no? La fase saliente del campionato come sempre sono i playoff ai quali bisogna arrivare al massimo. La società, come hai detto tu, siamo una società giovane, questo è il settimo anno e insomma le somme sono molto positive, siamo riusciti a costruire da zero un nuovo club partendo dalla 2, dove siamo riusciti subito a entrare in Superlega vincendo anche la Coppa Italia e dopo pian pianino noi abbiamo sempre alzato l'asticella, alzando il tiro, alzando sempre il livello tecnico sia della squadra ma anche di competenze del club. Siamo arrivati a questa settima stagione dove siamo riusciti ad allestire una squadra che dovrebbe rompere le scatole a quelle che ci stanno davanti. Ecco, a proposito di quelle che stanno in teoria davanti, ma che al momento non sono davanti, che i dati sei fatto di questo scorcio di campionato? Perugia ha vinto domenica una partita in maniera abbastanza netta contro Trento a Trento, dando una dimostrazione di forza anche senza Giannelli. Il campionato, la Superlega, tu la vedi già definita oppure no? Ma tutti gli anni diciamo che la Superlega si alza di livello, ma è un dato di fatto, un dato di fatto perché tutte le squadre ai blocchi di partenza si presentano sempre più preparate, più costruite, più equilibrate e non ci sono, per usare un termine in gergo, le squadre materasso, tutte le partite sono combattute e si giocano sul filo di 3-4-5 palloni al massimo. Più si alza l'asticella, più questi valori si azzerano. Quindi il campionato italiano è più bello per quello, perché tutte le partite possono avere dei vari risvolti. quindi una squadra sicuramente può essere favorita sulla carta, ma abbiamo già visto qualche sorpresa che non è sempre così, perché bisogna stare sempre al massimo, affrontare tutte le partite al 100% e nello sport è molto difficile. Quindi il nostro campionato è più bello per questo, perché il tasso tecnico è molto alto, dalla ultima alla prima squadra, l'ultima, tanto per dire, perché le sorprese ci sono tutti gli anni e tutte le domeniche. Assolutamente. Ma per te Perugia sta sempre davanti a tutti in un'ipotetica griglia di valori tecnici? Beh, bisogna nascondersi dietro un dito. Perugia ha allestito un roster molto importante, ci possono permettere fondamentalmente due squadre, hanno due squadre che vengono gestite di domenica in domenica e ultimamente abbiamo visto anche questo, quando qualcuno hanno qualche infortunio o decidono di far rifiatare qualcuno, sono costruiti in un modo eccelso e possono affrontare tutte le partite al massimo, fondamentalmente hanno due roster, per quello che sono davanti a tutti. Poi la gestione di Angelo è molto buona. Assolutamente. Poi c'è anche Trento. Eh sì, che non scherzi. Ha cambiato pochissimo, sono gli stessi giocatori, quindi hanno già a ritmo gara e tutto quanto. E poi spero che ci siamo noi a rompere un po' le scatole lì, ma tra virgolette dietro, ma dietro perché attualmente sono dietro, ma sono un po' di squadre che devono ancora ingranare, che non sono partite benissimo, anche per colpo magari di un calendario un posto favorevole, che sicuramente durante la stagione verranno fuori, quindi tutto come l'anno scorso, dal quarto all'ottavo posto ci saranno una manciata di punti, pochi punti per arrivare al quarto, ottavo, perché i valori sono molto alti. Immagino che tu ti riferisca a Milano e Monza, no? Assolutamente, assolutamente. E Modena come la inquadra in questo equilibrio di massa? Perché c'è un equilibrio di massa, direi. C'è un grande equilibrio, ma la inquadro molto bene, perché anche loro non hanno ancora espresso il loro valore, perché hanno un infortunio, tra virgolette, pesante, che hanno da Vischiva, che deve ancora rientrare a pieno regime, quindi gli è mancato per la prima parte del campionato, quindi il loro valore non è ancora venuto fuori. Ho capito. Ti facciamo un passo indietro. Tu hai totalizzato nella tua carriera 142 presenze in nazionale, hai vinto due ori, un argento e un bronzo alla World League. A me sembra un po' troppo meno rispetto al tuo valore tecnico, che sei sempre stato un giocatore di grande qualità, mi sbaglio, oppure anche se poi è rimasto quel quarto posto olimpico che è andato proprio per attraverso, un po' come quello di quest'anno, quei ragazzi di Fefe, trovi qualche parallelismo? Ma no, parallelismo, sono generazioni diverse, la pallavola è diventata molto più fisica, sono due cose leggermente diverse, sicuramente, come hai detto tu, con la nazionale non sono stato super fortunato, si poteva vincere qualcosa in più, comunque non mi lamento perché è andata bene, non sono poche le presenze, anche i due ori o i secondi posti, la partecipazione alle Olimpiadi, quindi sono contento così. Non ti lamenti. Nella mia carriera ho fatto delle scelte molte legate di cuore, più che di un vantaggio tecnico, nel senso che nella mia carriera non ho girovagato tantissimo per l'Italia, all'estero non sono mai andato, perché appunto mettevo davanti la scelta di vita, di famiglia, di qualità di vita, quindi potevo magari vincere di più, ma sono contentissimo così. E non penso nemmeno che tu abbia rimpianti, no? Da questo punto di vista. Assolutamente no, assolutamente no. Anche perché poi nel frattempo hai cresciuto un figlio che ti sta dando anche delle belle soddisfazioni, no? Vuol dire, vincere un oro europeo, un oro mondiale, perdona, Under 17 non è poca roba. No, non è poca roba, sta andando abbastanza bene, è inserito in un ottimo gruppo, si è creato un ottimo gruppo di quella squadra lì, nel 2017 anche nel 2018. Sì, sono contento, però nello sport non ci sa mai, quindi troppo rumore attorno a un ragazzo non bene, il meriti sono di tutti, perché è un gioco di squadra. Sono contento perché sta andando bene, però bisogna rimanere sul pezzo per andare avanti. Anche qui quello che è importante è come si arriva, così ha bisogno di vedere tra un paio d'anni come sarà. Tu gli hai dato consigli, gli dai consigli, lui ti segue oppure lo lasci andare per conto suo e lo guardi da lontano, come funziona? Funziona a richiesta. Si apre il piccolo, si apre la richiesta bene, no? Eh sì, perché l'unico imperativo in famiglia è stato quello di fare sport di qualsiasi genere. Lui ha, di sua iniziativa, ha fatto tanti sport, ha fatto rugby, ha fatto basket, ha provato a fare calcio, ha fatto tanti sport e è stata una sua scelta poi di provare anche la pallavolo. Quindi non c'è stata nessuna pressione, sicuramente potrebbe far piacere a me come genitore, ma ha scelto lui di sua spontanea volontà. E lo stesso discorso vale adesso per fare pallavolo. se chiede, gli rispondo, ma non sono io a andargli a dire le cose senz'altro, perché è giusto così e penso che per diventare un qualcosa o qualcuno devi avere la curiosità tutti i giorni per fare qualcosa. Se ti viene calata dall'alto non ne viene fuori uno in granché. Quindi è per questo che me ne sto nel mio angolino da genitore, tifoso genitore, punto. Ma aveva fatto così anche tuo padre, con te? Più o meno sì. Questo più o meno può fare una grande differenza, occhio, però va bene. No, la grande differenza è questa che, a parte che erano altri tempi, 30 anni fa, io ero un pochino forse più pilotato, si capiva che mi sarebbe piaciuto se io provassi a giocare a quel lavoro, anche se il mio passaggio da basket a volley è stato abbastanza casuale, perché ai tempi mio padre allenava a Milano, era una squadra di Milano, poi è andato ad allenare a Cuneo, dove io a Milano giocavo a basket. Poi mi sono ritrovato a Cuneo, che non c'era una squadra di basket, ero adolescente, ero in prima superiore, se non sbaglio, e non sapevo cosa fare da mattina a sera, non c'erano altri sport, anche io gli avevo chiesto, la squadra qui non c'erano i giovanili, c'erano qualcosa, qualcuno almeno, ho iniziato a seguire. Senti, rimanendo in campo di giovani, c'è qualche giovane che ti ha colpito in questa prima parte della stagione? Ce ne sono, ce ne sono molti, ci sono ragazzi molto talentuosi che devono essere un pochino affinati, dipende di che livello di giocatori parliamo, però vedo con tanto piacere che molte squadre riservano qualche posticino nel roster per dei giovani promettenti che sicuramente, perché ce ne sono molti, sicuramente potranno prendere il posto da titolare nelle prossime stagioni. La vostra scelta... Mi faccio un po' di particolare. Ascoltami, proprio rimanendo sempre in questo settore con la scelta che avete fatto di prendere Bovolenta, da mettere accanto a Romano, come vice Romano come opposto, è una scelta che ha una grande valenza in prospettiva e si prende anche un margine di rischio, nel senso che questo ragazzo non potrà giocare magari tanto quanto magari avrebbe potuto. È una scelta lungimirante per la società, immagino anche per il ragazzo. Spiegaci un attimo la razza della scelta. La scelta è, come dicevo prima, a parte che non so se può volentare come catalogarlo, giovane di età lo è sicuro, però ha già comprato qualcosina in più di quella sui giudinezzi, anagrafica, no? La razza è sicuramente creare dell'asset societario perché è molto importante essere solidi e lungimiranti e poi abbiamo visto che fondamentalmente Iuri gioca anche meglio. Sono alla pari ed è una garanzia un pochino per la società che se qualcosa non dovesse andar bene possiamo attingere la panchina su dell'ottima qualità. Non per niente, prima abbiamo fatto l'esempio di Perugia che ha due squadre, due titolari, cioè due squadre belle che fatte, appunto perché il livello è molto alto e se vogliamo ambire, rompere le scatole in alto, dobbiamo anche noi prendere quella strada lì. Per forza, per forza. Che idea ti sei fatto di quello che è successo a Parigi della Nazionale? Al netto voglio dire che poi alla fine sono state due partite, una che ha avuto probabilmente gli effetti della prima, però insomma alla fine a quel momento la Nazionale ha giocato molto bene. Ma lì intervengono tanti fattori, veramente tanti fattori. I presupposti buoni c'erano tutti, 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 perché anche quella famosa partita col Giappone è stata veramente memorabile e ripeto le condizioni e i fattori c'erano tutti per fare molto bene, però anche a livello psicologico non è facilissimo giocare a una competizione così importante, anche se arrivi molto bene. Ci sono delle giornate no, purtroppo, e i ragazzi purtroppo non sono riusciti a venirne fuori, ci hanno provato in tutti i modi, ma non sono riusciti, quindi non è che si può dire il perché per un motivo solo, sono più motivi messi insieme, non per ultimo, anzi forse per primo, una super prestazione della Francia che non ha fatto giocare. Quindi ci sono anche questa componente qua da tenere presente. Abbiamo fatto due partite strepitose, strepitose di squadra, anche perché qualche loro stella non è che abbia avuto delle percentuali super buone, però hanno espresso un gioco collettivo molto importante. Certo. Senti, Anastasi, il mio amico Anastasi, che fra l'altro con te ha un rapporto molto molto solido di vecchia data, come sta? Come lo vedi? È ancora il solito geniaccio? Il coach, il coach sta bene, il coach che era il mio allenatore, poi a Pechino. Lo so, lo so bene. Lo conosciamo bene. No, no, sta bene, tutto procede bene per adesso. Come si fa a far migliorare, a crescere ancora di più questa Superliga che ha raggiunto a livelli veramente notevoli, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo? C'è qualcosa che secondo te si può ancora migliorare? Come si sposta e dove si sposta l'asticella? Ma qua ci sono due riflessioni da fare. La prima è a livello tecnico e l'altra è a livello un po' più di brand, diciamo. Siccome siamo molto molto in alto, il primo aspetto è quello di diventare molto più popolari. Possiamo sfruttare anche il fatto delle donne che hanno raggiunto un obiettivo stratosferico, far ritornare la pallavolo mediaticamente a livello che rispetta, perché siamo il secondo sport nazionale, il terzo, quindi sotto questo punto di vista possiamo crescere tantissimo, quindi come visibilità, come spazi tv, come trasmissioni e quant'altro. E questo è un aspetto. Un altro aspetto tecnico e sicuramente le squadre si attrezzano ogni anno di più, investono di più e questo è molto positivo per il movimento, perché ci sono più denari che girano e di conseguenza si va alla scoperta e alla ricerca di qualche talento nuovo che rompe gli equilibri e su giocatori consolidati che ti possono dare delle garanzie. Questo binomio tra investimento e garanzia fa alzare il livello tecnico di questi quali. Noi ringraziamo Risto Zlatano per la sua partecipazione, per la sua disponibilità, gli auguriamo le migliori fortune, sempre scongiuri facendo, per tutta la stagione e niente, Risto grazie ancora e veramente incrociamo le dita per tutto. Grazie ancora. Continua il Totovolle, il nostro gioco a pronostici sui risultati della Superliga Cretembanca. Fino a questo momento il migliore rimane Marco Bracci che due settimane fa ha sfiorato l'Emprench entrando cinque pronostici su sei. Lo stesso Andrea Brogioni la scorsa settimana invece si è fermato a quattro sbagliando il big match Trento-Perugia e Milano-Verona. Ma sempre meglio di Flavio Gluinelli che al debutto non superò quota due tra i pronostici azzeccati. Questa settimana tocca a Risto Zlatanov. Ascoltiamo insieme le sue previsioni. Verona-Modena. Verona-Modena è una partita molto molto importante perché come dicevo prima bisogna capire se Modena è arrivata può arrivare ad esprimere il suo livello di gioco con se ha recuperato il cento per cento anche di forma fisica da Viskiba è una partita molto equilibrata. Lì sicuramente la farà farà da padrone forse giocare in casa perché quando gioca in casa già è una squadra molto molto solida e competitiva guidata bene. Quindi forse il pronostico a favore lo do alla squadra di casa ma solo perché giocano in casa non per altro. E poi c'è una certa Piacenza-Milano che è una bella... Qui sono di parte però come dicevo prima i valori sono talmente vicini che abbiamo visto Milano ancora non essere non aver preso la sua strada dell'anno scorso si devono ancora recuperare qualcosina sono una squadra molto pericolosa perché possono fare veramente veramente male e l'anno scorso ci hanno fatto male visto che ci hanno eliminato quindi bisogna tenerla moltissimo essendo di parte ovviamente tifo per la mia squadra. Si va giusto. Monza-Taranto? Partita delicatissima sarà la volta che Monza viene fuori non lo so anche qua sicuramente sarà una partita più psicologica che tecnica per la mia squadra. Ambo le parti sicuramente Monza sulla carta dovrebbe vincere. Poi abbiamo Grottazzolina-Trento. Per differenza di roster Trento. Cisterna-Padova. E questa è un'altra partita molto molto difficile perché Cisterna ha avuto un calendario fino ad oggi particolare ed è una di quelle partite dove deve iniziare a fare punti e tanti. Quindi lì sarà una battaglia durissima. Durissima lì è un tie-break mi prospetto un tie-break a favore di chi non lo so bisogna lanciare la momentina. Ti giochi la doppia qua? Metti la doppia. E poi abbiamo chiudiamo con un Perugia-Civitanova Perugia-Civitanova ovviamente sulla carta Perugia però Cittanova bisogna capire anche lì hanno degli infortunati che sono rientrano in che forma rientrano riusciranno a dare il massimo però devo dire Perugia. Lo spettacolo della Superlega non si smentisce mai. Ecco le azioni più belle della quinta giornata nel montaggio della Lega Pallavolo Maschile. Si comincia con il big match della quinta giornata tra i campioni d'Italia e del mondo della Sir Susa Vim Perugia e i campioni d'Europa dell'Aitas Trentino. Una delle giocate che ha catturato di più l'occhio è un'azione dei padroni di casa di Trento nel primo set che fa capire subito agli spettatori il clima che si respirerà. Alzata a una mano di Sbertoli per Cosa Mernic. Il centrale della nazionale slovena non si fa pregare e chiude il primo tempo nei tre metri. Sempre nella super sfida di Trento il protagonista indiscusso di giornata è l'MVP del match. Ole Plotnitsky con 28 punti, 4 ace e 3 muri. Uno dei bloc è quello fondamentale. A1 su Daniele Lavia che chiude il secondo set ai vantaggi e dà una svolta al match. Altre azioni spettacolari della giornata vengono dal Palapanini di Modena dove è stata di scena Monza. Una in particolare riguarda una giocata spettacolare del palleggiatore della Valsa Group, De Cecco, che si inventa in collaborazione con l'azzurro Simone Anzani una 7, ovvero un primo tempo lontano dal palleggiatore ma giocato all'indietro. Di nuovo a Modena ancora il centrale azzurro cattura l'occhio con un monster block sullo statunitense Averill. Infine chiudiamo con un'altra murata spettacolare invece a Milano nella sfida con Verona. Un superlativo Javornok mura a 1 Regers, l'opposto belga che decide di chiudere il colpo ma si vede sbarrare la strada dallo schiacciatore di Verona. Elegante, raffinata, semplicemente intelligente come spesso capita a chi come lei ha giocato un ruolo di palleggiatrice. Rachele San Giuliano ha avuto un percorso sui generi nell'universo pallabolistico, ha cominciato infatti ad affacciarsi nel volley professionistico a 16 anni dopo un po' di serie C con l'AGS è diventata nel frattempo Pulpiave in A2, insomma a casa sua, lei che è di 90 di Piave. Qui resta per 5 anni fino a vincere la Coppa Italia di categoria nel 2000. Nel 2001-2002 passa Likot Forlì sempre in A2, la trascina alla promozione in A1 e improvvisamente viene convocata da Marco Bonitta prima nel 2001 e poi a sorpresa per i mondiali del 2002 in Germania. Molai della Faula, Rachele San Giuliano diventa una delle 12 atleta azzurra campionese del mondo in quella fantastica cavalcata di 22 anni fa. Rimane a Forlì per altre 5 stagioni, poi passa a Pado, infine a Milano ancora in A2, poi torna in A1, prima a Santeramo e poi agli albori del gioiello Conegliano per finire la sua carriera in Francia a Le Canet. Ormai da anni mette a disposizione la sua innata predisposizione al racconto e alla spiegazione della palla a volo per commentare le partite su Sky. L'abbiamo intervistata per Starting Six, ascoltatela insieme a noi, che è un piacere. Buongiorno Rachele. Ciao, buongiorno. Rachele è ormai una collega commentatrice Sky della Champions League, ma soprattutto è un ex atleta, palleggiatrice, è stata una delle 12 fantastiche azzure dei mondiali, oro mondiale Berlino 2002. Io posso dire che c'ero, lei pure, ma in campo. Ricordo che difficilmente se ne va dal cuore e dalla testa, immagino, ma insomma ce lo teniamo stretto per noi che l'abbiamo vissuto e anche per chi l'ha vissuto da lontano. Rachele, il campionato comincia a dare dei segnali importanti. C'è stato un turno infrasettimanale nel quale Busto, incredibilmente, la rinascita di Busto, appena hanno risolto il contratto con Caprara, sono rinati, hanno centrato due successi consecutivi, il secondo contro Chieri. Ecco, che idea ti sei fatto di questo campionato? Nel frattempo Milano ha dovuto soffrire un'altra volta il tie-break contro Firenze. Che idea ti sei fatto di questo campionato che sta accendendo le sue luci in maniera sempre più forte? Allora, sicuramente fin dalle prime battute quello che sembra sia ancora il dominio di Conegliano in questo campionato diciamo che è abbastanza confermato. Forse mi aspettavo un po' più, è vero che ha avuto un po' di difficoltà anche Milano all'inizio, adesso con l'infortunio diciamo, comunque l'operazione che ha subito Paola e Gono, che l'ha tenuta lontano dal campo, però è una squadra che è stata costruita non solo per ruotare intorno a Paola. Ecco, pensavo magari potessero avere un po' meno di difficoltà, anche se già nella Supercoppa qualcosina forse si era visto, no? E quindi c'è sempre questa Conegliano che fa la voce grossa e poi ci sono comunque, c'è tanto equilibrio. Quello che stavi dicendo anche tu adesso sembra strano, no? Augusto si trova apparentemente in una situazione difficile da un punto di vista organizzativo, societario, di staff e arrivano due vittorie in questo modo. Tra l'altro una sorprendente contro Scandici perché è sicuramente quella che fa più rumore, più rumore di tutte. Poi anche Scandici, pronti via il cambio in panchina. Quindi diciamo che non sono mancati i colpi di scena in questo avvio di campionato, però è divertente, questo è bello. Cioè stiamo vedendo un livello che sta crescendo sempre di più. Quindi questo è molto molto interessante, ci fa bene. Sì, fa bene assolutamente al campionato perché ha bisogno di questo equilibrio, di questa continuità di rendimento anche ad alto livello che insomma rende il campionato sempre più interessante, non solo per le top squadre, ma secondo te quanto potranno infastidire Conegliano, Novara, la stessa Scandici e ovviamente una Milano al completo? Perché secondo me Milano in questo momento sta pagando l'assenza del lungo termine di Paola, no? Perché poi un po' si gestisce l'emergenza, poi nel lungo termine diventa un pochino più complicato. Sì, io credo che sia Milano che Scandici che Novara debbano ancora trovare quegli equilibri che servono perché insomma tutti quanti hanno subito, almeno per quanto riguarda Milano e Novara, degli infortuni che possono avere un po' diciamo compromesso ecco l'avvio di partite, di campionato. Scandici deve fare un po' i conti con il numero di straniere, il numero di italiane trovare l'assetto poi giusto, l'equilibrio, il cambio di panchina, quindi ci vorrà un po'. Per ora Conegliano sembra quella che assolutamente non accusa i cambiamenti perché anche quella è una squadra che ha cambiato completamente la diagonale delle schiacciatrici e sono state un'asse portante negli ultimi anni. Poi è chiaro che se vai a prendere Gabi e Zù, cosa ci dobbiamo dire? È tutto più facile diciamo. Esattamente, quindi credo che ci vorrà ancora un po', però mi auguro un finale di stagione bello come quello che abbiamo visto l'anno scorso perché è stato meraviglioso con Novara che va a strappare quella partita a Conegliano, con la finale scudetto incredibile tra Scandici che elimina la più accreditata Milano e poi se la va a giocare alla grande con Conegliano. Insomma, siamo reduci da questo. Poi c'è stata una VNL stratosferica, un'Olimpiade in cui ormai abbiamo finito gli aggettivi. Ci arriviamo, ci arriviamo. Esatto, possiamo solo che sperare il meglio per questo campionato. Senti, prima di andare oltre, Bergamo, te l'aspettavi questa rinascita così di Bergamo? Al netto del calendario, no, per carità non può essere paragonata a quella che noi conoscevamo come la grande Bergamo. Però insomma, mi sembra una stagione che l'anno scorso si è salvata all'ultima giornata anche per un incloso di risultati. Quest'anno già tre vittorie, insomma, non mi sembra una bella. Il lavoro di Parisi si comincia già a vedere. Bravo, hai sottolineato un punto importante. Secondo me sono proprio ripartiti l'anno scorso, veramente la salvezza è arrivata in questo modo così, anche un po' strano anche lì, quasi insperato. E poi da lì forse uno prende consapevolezza e capisce che deve ripartire da un progetto tecnico di un certo tipo. E è quello che è stato fatto, quindi... E poi i frutti del lavoro si raccolgono. Quindi secondo me è anche il merito alla società, ovviamente al lavoro di Parisi, delle atlete. E alla fine quando uno investe sul progetto, poi i risultati si vedono. Credo anche che bisogna sempre dare tempo ai progetti perché si realizzino. E sembra che siamo in un paese, ma a tutti i livelli, di tutti gli sport, in cui non si dà mai abbastanza tempo. Perché ovviamente nello sport contano i risultati, però con tutti questi ritmi così frenetici, veloci, non c'è neanche così tanto tempo per poter lavorare bene con l'organico al completo. Quindi bisogna anche avere un po' di pazienza. Senti, Raghera, hai visto qualche talento che ti ha stupito? Oppure hai visto qualcosa che ti ha qualche giocatrice? O situazione che ti ha deluso in questo scorcio iniziale di campionato? No, ma deluso no. Ti ripeto, siamo all'inito. Ci sono magari dei risultati che ti sorprendono, come potrebbe essere stato quello di Busto. Poi ho visto magari Pinerolo, una partita mi aspettavo che facesse meglio, quella dopo ho fatto benissimo. Ma lo sappiamo che questo è il momento in cui arrivano anche queste prestazioni. Sono felice di aver visto le ragazze che hanno comunque preso parte ai giochi olimpici e giocare a buoni livelli. E non è sempre facile, soprattutto dopo un'estate così intensa, così forte anche a livello emotivo, delle ragazze che anche in questo momento sono impegnate su più fronti. che per fortuna mi verrebbe da dire, perché insomma la promozione che bisogna fare di quanto è accaduto quest'estate è fondamentale per tutto il nostro movimento. Però le vedo bene, vedo proprio tanto tanto entusiasmo. Quindi no, deluso assolutamente no. E credo che sia un grandissimo traino, questa è l'attenzione che ora c'è per il nostro campionato, che possa dare una motivazione in più anche a tutte le giocatrici. E poi sto guardando con un occhio un po' particolare anche Tal Masson tra le neopromosse, perché vedo che insomma non è facile. Ha in panchina ovviamente un allenatore molto esperto, molto valido e molto bravo. e quindi le guardo con attenzione, sì. Senti, tornando invece alle Olimpiadi. Ecco, è stata una giornata, quella dell'11 agosto, che nessuno di noi che ha frequentato o ha vissuto in questo mondo si dimenticherà mai nella sua esistenza. Ecco, a livello personale, più che da essere atleta, a livello di cosa hai provato? E se quell'emozione che hai provato sei riuscito a paragonarla a quella dell'oro del 2002? Ma sai che in quel momento non ho proprio pensato all'oro del 2002? Cioè, quello che ho provato è stata tanta felicità per le ragazze. Ma proprio tantissima, perché le ho viste giocare libere, le ho viste divertirsi, le ho viste giocare al massimo del loro potenziale. Le altre squadre sono sembrate di un livello inferiore. Stiamo parlando in finale delle campionesse olimpiche uscenti. Sì, è una roba pazzesca proprio. È stato pazzesco, però ero sinceramente felice per loro. E proprio si respirava l'Arena Paris Sud quando siamo entrati già, non so dirti, quell'energia particolare. Ho sofferto molto di più nel quarto di finale, lì ho veramente sofferto. Però, insomma, sappiamo che il quarto di finale per noi era sempre stato il tabù, quindi c'era anche un po' quella... Le nostre colonne di Ercole, proprio la nostra... Esatto, esatto. Sono sempre stato. No, proprio tanta tanta gioia per loro, per loro, per ovviamente per lo staff, per Velasco, Lorenzo, Barbolini, insomma, un po' per l'ambiente, il movimento in generale, perché si meritava questa grandissima vittoria. I progetti di Rachele, in questo momento, oltre a fare la giornalista, la commentatrice... Ma, la giornalista è un parolone, magari. Ma sai, ormai c'è chi lo fa in una maniera, c'è chi lo fa in un'altra, e chi è giornalista, come me, ascolta quello che si dice. Sei particolarmente portata, fidati. Ti ringrazio. Non te lo dico perché sei ospite, ma veramente sei portata. Ti hai portata perché hai una lucidità e una razionalità nella tua analisi sempre molto equilibrata, ecco. Quindi non è una dote naturale, cioè hai una dote naturale, evidentemente ce l'hai dentro. Ma quello che cerco da telecronista, diciamo, è di rendere, magari, comprensibile, accessibile, uno sport bellissimo e più persone lo possono... No, beh, magari delle volte non ci si riesce. E più persone, penso, che si possano appassionare perché comprendono qualcosa in più, più abbiamo dei nuovi tifosi, dei nuovi sostenitori, e questo fa sicuramente molto bene al movimento. E i miei progetti, diciamo che ho... In questo periodo Sky mi ha dato una bellissima opportunità, che è quella di presentare insieme a Fabio Tavelli il Monday Night, che va in onda ogni lunedì sera, appunto, con la pre- e post-partita per quanto riguarda il calcio. Quindi è sicuramente una grandissima sfida. Non si parla, ovviamente, solo di calcio, perché anche di tutti gli altri eventi, che sono appunto su Sky, dal tennis ai motori, al volley, che questa settimana, poi la prossima, ecco, in realtà comincia la Champions League di volley maschile e femminile. Quindi saranno tante, ma è soprattutto, diciamo, calcio. Quindi è una bellissima sfida. Sono molto carica e devo studiare tantissimo, però mi piace e credo che... Anche perché... Mi diverto, ecco, mi diverto, mi appassiona. Anche perché il calcio è molto bello, ma è una brutta bestia. Quindi va... Bisogna lavorarci con grande attenzione. Grande attenzione, ma... Sì, sì. Se utilizzi ancora la tua razionalità, il tuo impegno, il tuo studio specifico della materia, vedrai che vai tranquilla. Sì, ma non mi spingo nel campo tecnico-tattico. Ma l'ultima... Intanto siamo 54 milioni di tecnici, quindi 60 milioni di tecnici in Italia. Vai tranquilla. Ce ne sono già abbastanza. Assolutamente. Ce ne sono già abbastanza. Non ne serve una in più. Allora, noi ringraziamo veramente molto Rachele San Giuliano per la sua disponibilità. Le auguriamo le migliori fortune. In bocca al lupo per tutto, Rachele, veramente. Grazie ancora. Crepi il lupo, in bocca al lupo a voi. Grazie. Nelle statistiche di giornata, la quinta per l'esattezza, tra le top scorers punta la Daldrop Milano e la solita Nemet Perugia con 28 punti, seguiti con 23 dalla Cese Montalvo di Bergamo, a chiudere Skinner Chieri e Antropova Scandicci con 22. Al servizio, grandi prestazioni di piani, Bergamo con 5 eschi, apprecciuto da un quartetto con 3 es, formato da Ungureano, Perugia, Asmaier, Novara, Antropova, Scandicci e Sorokaite, Pinerolo. Infine a muro, grande giornata per Karol, Scandicci e Squarcini, Novara con 5 muri, davanti a Deleksic, Novara, Budigan, Firenze e Lubiam di Conegliano con 4. Nelle varie classifiche generali, tra le top scorers, conferma l'idere l'anime di Perugia con 127 punti, che ha staccato la Skinner di Chieri a 121. Sempre terza, l'Antropova di Scandicci a 109, mentre la Daldorop di Milano sarà a quarto posto con 106 punti. La Smarzec e Pinerolo entran nella top 5 con 98. Tra le top acers, primato solitario per l'Antropova di Scandicci con 11 es, davanti all'Alzheimer di Novara con 10. Sul podio sarà la Piani di Bergamo con 9. A chiudere la graduatoria, Obossa di Busto e Weizel di Vallefoglia a 8 punti. Infine tra le muratrici, danesi di Milano, sempre leader con 23 punti, davanti alla Butican di Firenze, ferma a 18. Sempre sul podio, la Candi di Vallefoglia, insieme alla Squarcini di Novara con 14, mentre la Alexici di Novara è quinta con 13. Altro turno interessante e ricco di novità per il nostro spazio dedicato ai migliori libri delle Serie A1 di Cotà femminile. Entrando nel merito di quanto accaduto nel turno infrasettimanale valido per la quinta giornata e ricordando sempre che la nostra valutazione è basata sui dati delle ricezioni positive e perfette fornite dai tabellini di Lega, il primo posto di questa giornata, a nostro parere, non può che andare a Monica De Gennaro, libero del Limoco conigliano della Nazionale Azzurra, che dopo una giornata di riposo contro Vallefoglia ha firmato un 86% di ricezione positiva e un 64% di ricezione perfetta. Seconda piazza invece per la giapponese Satomi Fukudome della Nomia Vero Valle Milano che contro Firenze ha realizzato un ottimo 75% di ricezione positiva e un 60% di ricezione perfetta. Primo podio invece per Federica Pelloni che nella sfida vinta da Busso Acchieri è riuscito a piazzare un bel 62% di positiva e un 54% di perfetta, che ce l'ha fatta preferire alla comunque ottima prestazione della Porto Ricana di Scandici, Brenda Castiglio, che con 67% di ricezione positiva e un 44% di ricezione perfetta ha spinto le Toscane contro Talmalsons. Quinta onorevole piazza per Giulia Leonardi, libero di Firenze, che nonostante il K.O. a Milano è riuscito ad accentuare una prestazione notevole con un 62% di ricezione positiva e un 42% di ricezione perfetta. Ricordando che vengono assegnati punteggi a scendere, a scalare da 5 a 1, ecco la nostra classifica di Superwoman dopo la quinta giornata della Serie A1 ticota femminile. prima De Bortoli, Vallefoglio con 8, secondo la Fugudome di Milano con 7, poi sono due al terzo posto a Parimerito, De Nardi di Novara e Leonardo di Firenze con 6, poi c'è la De Gennaro di Conegliano con 5, poi altre due ragazze, due liberi, al sesto posto Moro di Penerolo e Pelloni di Busto con 3, poi a scendere abbiamo la Panettoni ottava di Cuneo con 2, sempre a ottavo posto abbiamo l'Armini di Bergamo e la Castiglia di Scandici sempre con 2, e all'undicesimo posto, chiude la classifica, gradatori abbiamo Ferrara di Talmassons con 1. Prosegue anche il nostro gioco a pronostici, il Toto Volley. La scorsa settimana Simona Gioli ha totalizzato appena 3 punti, facendo peggio sia di Manuela Leggeri che aveva debutato con 5 pronostici azzeccati su 7, che di Marco Bracci che l'aveva eguagliata con lo stesso punteggio. Oggi tocca a Rachele Sangiuliano, ascoltiamo insieme i suoi pronostici della stessa giornata della Serie A1 e vediamo se riuscirà a battere l'attuale record. L'anticipo di sabato è Perugia contro Milano, si comincia subito alla grande, come la vedi? Ovviamente non c'è l'X, però ti puoi giocare una doppia, quindi fai come vuoi. Perugia deve andare anche alla ricerca di un buon risultato e magari approfittare di questo momento, però non lo so, dai proviamo un 3, Milano 3, Perugia 2. Tanto Milano ormai ci abituate dai break. Quindi facciamo un 2 per Milano, ok. Poi Firenze-Novara. Novara. 2. Busto Artizio-Binerolo. 2. Cuneo-Roma. 2. Talmasson-Schieri. 2. La grande. Bergamo-Vallefoglia. Eh, bella sfida. Dai, diciamo 1. Bene. E qui diamo con il Big Match, cioè con Eliano-Scandici. 1. 1, senza dubbi. Però vediamo poi quante ne ha beccate. Ah, certo, lo vediamo a fine giornata, ti mando il conto, ti mando il conto finale. Va bene, va bene. Azzurre tra le protagoniste dell'evento di Cascais in Portogallo, organizzato dall'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali e trasmesso in diretta sull'Italia Team TV. La giuria, che ogni anno consegna un riconoscimento a chi si distingue nei principali eventi sportivi internazionali, ha scelto Little Volley, che a Parigi, 2024, ha vinto l'oro da imbattuta permettendo all'Italia Team di raggiungere quota 40 podi e di migliorare il medagliere record di Tokyo 2020. e Caterina Antropova, Caterina Bosetti, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sara Far, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Loveto Morui, Alessia Orro, Miriam Silla, Ilaria Spirito, questo il gruppo che ha firmato il primo trionfo della storia della pallavolo italiana ai giochi olimpici dopo i tre argenti e gli altrettanti bronzi ottenuti dalla squadra maschile. presenti alla cerimonia all'auditorium del CC e di Estoril, tra gli altri il presidente del CONI Malagò, il segretario generale Carlo Mornati e una delegazione della preparazione olimpica del CONI volata in Portogallo per partecipare alla concomitante assemblea generale dell'ANOC che si chiuderà il primo novembre. Come abbiamo fatto a conquistare l'oro? La nostra mentalità è cambiata e grazie al nostro coach Julio Velasco a tutto lo staff e alle lezioni imparate dall'esperienza del passato ce l'abbiamo fatta. Le riflessioni di Carlotta Cambi sul palco dopo aver ricevuto il premio da Francesco Ricci Bitti presidente dell'Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive è stata un'avventura fantastica una volta tornati in Italia abbiamo ricevuto un'accoglienza straordinaria. Appuntamento a martedì prossimo sempre su Starting Six per fare il punto della situazione dove una settimana con tre turni di campionato e conoscere gli esiti del Totovolley del Fantavolley della Lega Volley Femminile continuate a seguirci e conoscere la Lega Volley